Identità Quante volte avete sentito questa parola? E quante volte oggi pomeriggio la sentirete ancora? Ma avete mai fatto caso che questa parola rimane sempre identica, che la usiamo al singolare o al plurale? Non cambia mai. Adesso forse qualcuno di voi dentro di sé sta pensando ma in fondo l'identità è un concetto essenzialmente singolare. Almeno sul piano giuridico ciascuno di noi non può che avere una e una sola identità al singolare. E in effetti quando dobbiamo autenticarci di fronte ad un'autorità, di fronte a una controparte pubblica, privata, nazionale, straniera, ci basta estrarre la nostra carta d'identità, il nostro passaporto ed ecco che ci identifichiamo in modo incontrovertibile. Lo stesso accade se dobbiamo noleggiare un'auto o acquistare una bottiglia di vino e dobbiamo dimostrare al nostro interlocutore che siamo maggiorenni. È tutto molto semplice. Quando però ci spostiamo dall'universo analogico all'universo digitale le cose cambiano, cambiano radicalmente. Qui non abbiamo più una sola identità personale ma tante identità digitali. Da Facebook ad Amazon, da Booking all'Agenzia dell'Entrata, all'Inps e chi più ne ha più ne metta tutti ci chiedono di eleggere delle credenziali di sceglierci un nome utente e una password. Insomma, ci assegnano loro un'identità digitale. Ora, se è vero, ed è vero che ciascuno di noi utilizza decine di queste piattaforme, di queste applicazioni e se è vero che la sicurezza informatica ci obbliga a scegliere oramai delle combinazioni alfanumeriche difficilissime io vi chiedo, come possiamo ricordare tutte queste password? No, non lo so. Certamente è molto difficile. Qualcuno avrà una lista. Ma certo è complicato. Ed è così complicato che sarà successo anche a voi a volte di rinunciare ad utilizzare un servizio digitale pur di non aggiungere l'ennesima password al vostro elenco. Oppure, dov'è possibile, scegliete di loggarvi con altro operatore. In effetti, sono sempre di più i siti che, consapevoli della difficoltà di gestire tutte queste identità digitali, ci offrono la possibilità di identificarci facendo leva su password rilasciate da altro operatore. Ora, il caso d'uso sicuramente più noto di identità federata è lo SPID. Lo SPID è il sistema pubblico di identità digitale. Con lo SPID, un'unica password, noi possiamo accedere ai servizi digitali di tutte le pubbliche amministrazioni italiane ed anche delle imprese aderenti in Italia e all'estero. E complice il lockdown, lo SPID ha avuto un successo clamoroso. In pochi mesi sono state superate i 10 milioni di utenze. E questo è un bellissimo segnale per il nostro paese. Per la digitalizzazione, ma anche per la sua indipendenza. perché portare i nostri dati su server italiani significa ridurre lo strapotere dei colossi statunitensi e il rischio che questi abusino dei nostri dati. E quindi benvenga lo SPID. Ma ora io vi dico, non sarebbe fantastico se potessimo ricongiungere la nostra identità personale e digitale? Se potessimo dimenticare tutte le password, anche quella dello SPID, ed essere solo Claudia? Anche online? Sto sognando? Non lo so, ma le parole blockchain, self sovereign identity, identità autogestita, vi dicono niente? No, non stiamo pensando di abolire la sovranità statale, ci mancherebbe. Ma l'idea che c'è sotto la self sovereign identity è geniale, semplice ma geniale. Ed è questa. Ogni individuo ha una e una sola identità. E l'identità è la proiezione di me. E quindi l'identità non può che appartenere all'individuo rappresentato, che dunque ne deve poter disporre liberamente, senza bisogno di intermediari. E la blockchain serve proprio a questo. Attraverso la blockchain, infatti, quella per capirci dei bitcoin, non serviranno più password. Ogni volta che un'autorità immetterà nella rete distribuita un certificato, qualunque controparte potrà verificare che quel certificato proviene da una certa autorità, che quel certificato è autentico ed integro. Come nella realtà analogica mi identifico con un certificato, così lo stesso certificato potrà essere utilizzato nella realtà digitale. Ma c'è di più. E per capirlo torniamo un attimo all'esempio di prima. Dicevamo che quando dobbiamo noleggiare un'auto, acquistare una bottiglia di vino, dobbiamo dimostrare la nostra maggiore età e che semplicemente ci basta esibire la nostra carta di identità. Ma avete mai pensato che facendo così voi date al vostro interlocutore molti più dati di quelli che vi ha chiesto? Nella mia carta di identità troverà la mia residenza, troverà il mio stato civile, tutti i dati che non mi erano stati chiesti. Ma non lo sapete che i dati sono preziosi? Che vanno custoditi con cura? Ebbene con la self-sovereign identity anche questo problema potrebbe essere risolto. Come? Immaginate per un secondo che la vostra identità sia come un mazzo di carte. Ad ogni carta corrisponde un attributo. la data di nascita, lo stato civile, il titolo di studio e avanti così. Ebbene con la self-sovereign identity il mazzo lo tiene ciascun soggetto. Ognuno di noi terrà il proprio mazzo. E allora quando dovrà autenticarsi di fronte a una controparte potrà decidere quali carte giocare, quali dati condividere con quella parte. Potrà creare, sulla base della circostanza, sulla base dell'affidabilità della sua controparte, un certificato ad hoc, più o meno ricco, tagliato su misura. Ma siamo seri. Ci vorrà ancora molto tempo perché questo sistema possa essere operativo. Ci attendono grandi sfide, forse più giuridiche che tecniche. Ma nel frattempo tutti noi impegniamoci a vincere le resistenze verso le tecnologie emergenti. E allora così, un giorno non troppo lontano, potremo finalmente dire di avere una e una sola identità, anche digitale, al singolare.